Ciao ragazzi, siete pronti? Io vi aspetto, sono già qui, guardate questo splendido panorama dello stretto di Messina. Save the date, il 14 settembre, vi aspetto per questa splendida traversata. Io vi supporterò in acqua, magari, dall'inizio alla fine, o quasi facciamo. Quando giocavo la nostra forza era la forza del gruppo e sono sicura che faremo una grandissima traversata. In acqua vinciamo noi, swim for Parkinson, hashtag muoviamoci insieme. Un abbraccio, vi aspetto.